Buon appetito, buon appetito, buon appetito. ma non è tanto fatto ma sono abituati ma sono abituati ma se non c'è una cosa e buco ma in varietà ma quest'anno non mi piace ma non mi faccio mangiare io mi faccio mangiare questo io mi faccio mangiare ma che me ne blocca non mi piace mangiare ma non ci stanno proprio si è persa perchè io mi lavoravo a mettere non mi va la mangi che me l'hai aumentata qualche volta ma no ma così dalle età qui stanno proprio condite, senza condite mi fate riprendere un poco scusate stavo riprendendo un poco stavo facendo un video sentite condite mi piace per loro quest'anno proprio è stata una cosa e con la scuola che porta nella casa la casa è una cosa casale ma che hai la foto alla casa stava la casa